La prossima ospite di Electric Days è un volto noto della televisione italiana ma anche una consumatrice attenta, attenta soprattutto alla sostenibilità, all'impatto ambientale che facciamo tutti noi da consumatori e anche alla mobilità sostenibile. La vedete qui inquadrata è Filippa Lagerbach che oltre ad essere attenta ai temi proviene anche da un paese che proprio per definizione è attenta alle questioni ambientali. Ciao Filippa, benvenuta. Ciao, buongiorno a tutti e grazie dell'invito, mi sento molto onorata, spero di essere all'altezza. Senti, ti faccio una prima domanda relativa a un'intervista che hai lasciato qualche tempo fa dove hai dichiarato voglio far parte del cambiamento per la sostenibilità. Ecco, che cosa intendi per dire voglio far parte, cioè che cosa fai concretamente? Ma innanzitutto voglio far parte del cambiamento perché credo che tutti noi vogliamo in qualche maniera evolvere, migliorarci, cambiare, aggiungere pezzi di consapevolezza alla nostra vita, al nostro stile di vita. Quindi assolutamente voglio far parte di questo cambiamento e credo che sia importante capire che siamo tutti connessi, siamo tutti connessi con la natura, con questo ciclo di vita e quando andiamo a camminare nei boschi capire che veramente che la natura ha bisogno di noi ma noi abbiamo bisogno della natura. Quindi partire dell'amore per la natura e divulgare la bellezza e i benefici della natura, quanto possiamo stare bene quando curiamo la natura, quando facciamo una passeggiata tra le piante, tra il bosco, insomma, per me è la mia terapia. Quindi divulgare la bellezza perché è difficile, no? Siamo soprafatte di notizie catastrofiche, l'emergenza climatica che è sempre peggio. Quindi a volte pensi come singolo individuo cosa posso fare io? È troppo per me, è troppo. Quindi il mio impatto non avrà nessuna importanza e quindi lascio stare. Invece capire che dalle piccole passi, piccoli impegni, piccoli cambiamenti quotidiani di tutti noi faremo veramente una grande differenza. Ma io parto dell'amore, parto della bellezza. Se iniziamo ad amare la natura capiamo che dobbiamo trattarla e curarla e cambiare le nostre abitudini per poter proseguire e vivere tranquilli, sempre più a lungo ovviamente. Quindi ogni giorno come mamma, come donna, come cittadina, come consumatore, abbiamo delle scelte. Mi pongo davanti a delle scelte. Posso prendere la macchina o posso andare a piedi. Posso mettermi un maglione in più oppure alzare la temperatura della mia casa. Posso lasciar scorrere l'acqua o chiuderla quando lavo i denti. Posso comprare un frutto di stagione, un frutto che viene dall'altra parte del mondo. Capire il valore che abbiamo tutti noi, insomma, l'impegno e il potere come consumatore. Perché come singolo individuo abbiamo una voce, abbiamo un potere importante. E questa credo che sia la base. Ma voglio partire dall'amore. Quindi io ho preso un po' l'impegno come divulgatrice della bellezza della natura. Sui social parlo spessissimo dei benefici della natura, degli alberi, del bosco. La bellezza. Perché voglio così incentivare altri a scoprire la bellezza di tutto ciò che ci circonda, dell'ambiente e iniziare dalla bellezza per prenderci cura di quello che ci circonda. Io credo che questo sia un inizio possibile per tutti. Perché è veramente difficile sentirsi, ci sentiamo molto soli, molto piccoli e indifesi davanti all'enormità di quello che sta succedendo. Tutte le notizie climatiche difficili che ci stanno arrivando tutti i giorni. Però iniziare dalle piccole cose che possiamo veramente fare tutti i giorni, che fatte tutti insieme faranno veramente un grande differenza. Almeno io credo questo. Senti, tutte le settimane, insomma, gran parte degli italiani ti conoscono per la trasmissione Che Tempo Che Fa e quindi insomma lavori in una trasmissione che fa informazione tutte le settimane rispetto a tantissimi temi, tra cui anche quella della vicenda del coronavirus, con Burioni, ma non solo con Burioni, insomma ne avete parlato tantissimo. Pensi che la pandemia possa avvicinare di più le persone ai temi anche dell'ambiente? Perché comunque adesso c'è una maggiore sensibilità, una maggiore attenzione alla cura del pianeta che insomma magari fino a qualche tempo fa non c'era? Credo assolutamente di sì perché se prima non tutti si rendevano conto dell'effetto che abbiamo con la nostra presenza ingombrante sulla natura, in lockdown quando eravamo tutti chiusi nelle nostre case, quando le macchine non viaggiavano più, quando le fabbriche erano chiuse, abbiamo visto la natura appropriarsi di nuovo della natura, a ripulirsi o guarire un pochino. Non è che ha fatto un così enorme cambiamento, però l'abbiamo notato tutti. Io davanti a casa ho visto passare una volpe che non l'avevo mai visto prima, si sono visti aquile, si sono visti acque limpide a Venezia e nei fiumi, insomma i cieli splendidi e quindi credo che tutti noi abbiamo capito che senza la tensione verso la natura e l'ambiente non andremo da nessuna parte. Quindi deve esserci ovviamente l'impegno di ciascuno di noi, ma poi ovviamente anche una politica ambientale seria e messa in atto da chi ci governa, questo è chiaro. Senti, il tema che stiamo affrontando questi giorni Electric Days è ovviamente la mobilità sostenibile. Un altro impatto grande che sta avendo in questi mesi la pandemia è quello del tema della mobilità, non a caso, per esempio tutta la micromobilità elettrica, i monopattini sono esplosi, diciamo l'utilizzo dei monopattini è esploso proprio in questi mesi. Ecco, te come ti muovi e soprattutto come pensi che sia la mobilità nel futuro? Allora, io sono stata una delle prime, però sono stata un po' prima delle grandi tribù dei ciclisti a Milano, ho scritto addirittura un libro nel 2013, quindi anni fa, sulla bici, sui benefici, sul fatto di cercare di incentivare altri a fare la mia stessa scelta, quindi sono sempre stata molto pro mobilità sostenibile, poi mi sono trasferita fuori Milano e ahimè ho capito che dovevo prendere, avere un'auto per potermi muovere, quindi non sono un integralista, non sono un ipocrita, sono sia pedone, ciclista, ma automobilista, credo che sia anche buona per capire le esigenze di tutte queste categorie, capire che il rispetto ci vuole ovunque per poter convivere meglio. Quindi ho una macchina ibrida, ma il mio sogno sarebbe una macchina elettrica, full electric, l'abbiamo provato per sei mesi e c'era una grande sfida per cercare con l'autonomia di arrivare nei posti dove volevamo arrivare, perché ancora le infrastrutture non ci sono, non sono ovviamente ancora al massimo, so che state parlando, so ho seguito anche alcuni dialoghi dove le colonne, le batterie, insomma si discute e sicuramente il futuro sarà electric e questo non vedo l'ora per quanto mi riguarda, però era anche una bella sfida in famiglia che mio marito è molto, proprio ama i motori, l'innovazione, le tecnologie, quindi per lui era bellissimo poter guidare la macchina full electric e cercare di dosare l'autonomia per arrivare sempre a fare più chilometri, quindi e poi ti senti proprio giusta con la macchina elettrica, arrivi senza rumore, insomma sei più in sintonia con il mondo e questo per me sarebbe un sogno. Poi ovviamente magari nel futuro in realtà non saremo proprietari delle auto, magari saranno meno auto parcheggiate, più auto in comune, magari il car sharing sarà molto più importante nel futuro, posso immaginarmi questo, posso immaginarmi i mezzi tutti elettrici, monopattini come dici tu, che ho un po' paura sinceramente l'ho provato, mi sembrano un po' pericolosi, ma motorini e così via, sì sempre più elettrico. Senti, lo ricordavo all'inizio, tu sei originaria della Svezia, che è un paese storicamente molto attento alle questioni ambientali, ti faccio due domande, una secondo te perché la Svezia è così attenta all'ambiente e quali sono le differenze con l'Italia? Soprattutto appunto, l'hai detto tu, hai un marito italiano, quindi magari la vivi anche in casa la differenza. Sì, sì, assolutamente, le differenze si notano. Allora, noi siamo un paese grande come la Spagna con una popolazione di 10 milioni di persone, abbiamo un territorio quindi molto vasto, abbiamo una grande tradizione della vita all'aria aperta, anche se abbiamo un clima molto più rigido dell'Italia, quindi in tutti i metri, sole, pioggia, neve e vento noi siamo sempre fuori, da quando eravamo piccoli siamo abituati a giocare sempre fuori e anche tutti i grandi ovviamente perché non è che tu puoi dire una cosa al bambino e fare poi un'altra cosa a tu, siamo sempre all'aria aperta a fare delle passeggiate o praticare sport, quando si ghiacciano i laghi, i mari, andiamo a patinare, d'inverno andiamo a fare delle gite, insomma. E poi abbiamo una bella legge, una legge, un diritto che fa sì che la natura è patrimonio di tutti, questa è una cosa veramente speciale e unica per la Svezia, che ti permette quindi di frequentare, di andare per i boschi, raccolare i funghi, i mirtili, mettere sulla tua tenda, trascorrere la notte, anche sui proprietà private, basta che tu lasci tutto come l'hai trovato e quindi questa fa sì che la natura è nostra, è casa mia, quindi io la tratta bene, la cura come se fosse casa mia e certo non mi viene in mente di inquinare o sporcare o fare qualcosa di brutto, perché veramente è casa mia. Quindi questo credo che sia la differenza maggiore anche il perché noi tendiamo di avere un rispetto verso tutto ciò che è anche in comune, un senso civico che forse è un po' diverso. Poi abbiamo anche le infrastrutture che nascevano molto prima, io mi ricordo da ragazza che c'erano già le piste ciclabili, quindi incentivate ad utilizzare i mezzi della mobilità sostenibile. Negli uffici ci sono spogliatoi e quindi chi sceglie di arrivare in bicicletta può farsi la doccia e andare poi al posto di lavoro. Quindi siamo aiutati a fare, vivere una vita un po' più sostenibile. E poi anche per esempio il riciclaggio, mi ricordo da ragazza il PET, il vetro, l'alluminio, già negli anni 80 avevamo una sovratassa quando compravi questi prodotti e quindi se poi li riportavi nei negozi ti davano un scontrino con i soldi. E quindi noi ragazzi facevamo un po' a gara a chi toccava portare indietro questi prodotti per poter avere un po' di soldi in più. Quindi tanti incentivi, no? E io mi scontro molto con, quando io parlo di questa cosa qua dicono ah sì ma voi siete un popolo diverso qua, il rispetto non esiste, non funzionerebbe mai qui. E io mi chiedo ma perché non possiamo importare le cose belle dalla Svezia qua e esportare dall'Italia invece le cose belle che funzionano qua e farli ammorbidire un po' di più questi svedesi un po' più rigidi, no? Quindi il mix di cultura, ma dire non funzionerebbe mai qua, a me dispiace sentire, perché io credo che tutto sia possibile e la voglia di cambiare deve essere la base di ogni cosa. Certo, no, molto d'accordo. È un po' un atteggiamento pigro dire non funzionerebbe qui, perché poi secondo me invece alla fine funzionerebbe con i giusti incentivi. Senti, rimaniamo idealmente in Svezia parlando un attimo di Greta Thunberg. Lei è svedese come te, ha cominciato da qualche anno tutto il suo percorso di aiuto alla consapevolezza, soprattutto rispetto ai governi, anche con uno standing molto forte, molto forte, perché lei non teme, insomma, non li teme i grandi potenti della Terra, li guarda dritta negli occhi come se fossero a loro pari. Ecco, come... Ti voglio fare la domanda rispetto alle nuove generazioni, no? Che importanza ha un personaggio simile in cui magari i ragazzi più giovani possano in qualche modo riconoscersi e se dal tuo punto di vista sta funzionando proprio per questo aspetto, quindi sui giovani? Sì, allora, sono anche andata a trovarla, Greta. Un venerdì, quando ero a Stoccolma un anno fa, era addirittura il suo compleanno, ho detto vado a vedere se c'è, se sta lì. E infatti era lì con alcune persone che la circondavano ed era... L'ho salutata e ero curiosa perché l'ho seguita dall'inizio, avevo visto degli articoli proprio all'inizio, quando lei stava lì da sola con questo cartello a cercare l'attenzione, poi è cresciuto questo movimento incredibile che ha mobilitato i giovani e non solo in tutto il mondo, no? È riuscito ad arrivare veramente ovunque con il suo messaggio. Questa ragazza che sembra così piccolina, così fragile, ma è così determinata, così autentica, che scrive i suoi discorsi, che non fa sconto a nessuno e parla il linguaggio dei ragazzi. Quindi fino a prima magari c'erano gli scienziati, gli esperti che parlavano dell'emergenza climatica, però lei parlava la lingua dei ragazzi, e quindi è riuscito a mobilitare con i suoi messaggi i ragazzi di tutto il mondo. Quindi un potere incredibile, importantissimo, perché i suoi messaggi arrivano forti, chiari. Lei è veramente chiara nei suoi messaggi, è preparata, sa quello che dice, sa di che cosa parla e appunto non fa sconto neanche alla politica svedese, che magari può essere considerata green in il resto del mondo, ma lei non si ferma davanti all'apparenza, va in fondo e vuole risposte, vuole, non vuole solo il greenwashing, no? Lei è veramente integralista nei suoi messaggi e questa coerenza, questa trasparenza, questa verità viene apprezzata da tutti i ragazzi. Poi sono i grandi che la possono criticare e non so perché, non capisco queste critiche davanti a una figura così autentica. A me piace tantissimo e mi ha veramente colpito piacevolmente vedere i ragazzi coinvolti in tutto il mondo e non solo ovviamente, anche i grandi. Quindi un personaggio come lei è stato rivoluzionario, ecco. La criticano perché secondo me ne hanno paura ed è anche un buon segno quando i più grandi hanno paura di più giovani. Sì, l'ha detto anche lei, infatti quando sono arrivate dei messaggi di critica verso i suoi confronti, lei ha detto ecco, perché temano ovviamente, perché sto dicendo la verità, è molto intelligente. Senti, tu hai cominciato però a fare un lavoro, anche tu appunto, di testimonial rispetto ai temi dell'ambiente qualche anno fa. Ci spieghi perché hai deciso di avvicinarti a questi temi e soprattutto che importanza dai a testimonial come te, che sono dei volti noti, quindi sei conosciuta peraltro, però insomma puoi veicolare un messaggio. Chi testimonia, secondo te, rispetto alla sostenibilità ambientale funziona, no? Beh, per me non è che ho scelto diventare testimonial. Io sono semplicemente me stessa, come sono stata cresciuta, per me è un innato amore verso l'ambiente, verso tutto quello che è in comune, verso i boschi. Quindi quello che dicevo all'inizio, l'amore, se tu insegni l'amore ai figli per la natura, non è una cosa forzata, non è una cosa che obbligo, che devi fare, devi pulire, devi tenere pulito, devi rispettare. È una cosa proprio che vedi i benefici che ti dà. La voglia, la gioia di correre in un bosco per un bambino è il massimo. Quindi io ho praticamente soltanto portato la mia naturale abitudine di vita a Milano cercando di importare il bello che conoscevo già e che magari qua non era così sottolineato. E cercando con la mia persona, con la mia faccia e l'impegno di cambiare le cose. Quando mia figlia era piccola, la volevo portare in bici, come io sono stata cresciuta in bicicletta in Svezia, ho capito che le strade erano pericolose, c'era tanto traffico, non c'erano le piste ciclabili. Allora mi sono iscritto prima nel Genitori Antismog, che è un'associazione che combatte l'area inquinata, che vuole una politica ambientale, a Milano da 2001 e poi a Ciclobbi. Ho cercato di, solo con la mia presenza, perché volevo migliorare per me, per la mia famiglia e per tutti quelli che potevano usufruire o gioire insieme a me e vedere la bellezza di una natura che tornava a splendere. Quindi è importante non soltanto parlare, ma i fatti sono i fatti che parlano, no? Per esempio da piccolina, scusami, aggiungo questo, da piccolina noi organizzavamo tutti gli anni la pulizia del quartiere, tutti i grandi, i piccoli, uscevamo insieme a pulire dopo l'inverno e prima dell'inverno, due volte all'anno, per togliere tutte le immondizie, le carte, le cose che potevano essere, no? La natura e poi facevamo una grande grigliata. Un po' è nato anche a Varese una cosa del genere, viviamo a Plastic Free, dove tutti insieme siamo andati sul lago a raccogliere la plastica, l'immondizia e cercare di migliorare tutti insieme l'ambiente che poi è per tutti. e quindi cercare con un impegno reale ed essere coerente nella vita, poi non sono appunto integralista, sono anche consapevole delle mie debolezze, però quello che ho anche detto all'inizio è cercare di migliorarsi tutti i giorni e capire le scelte, a volte le scelte sono sbagliate, ma cercare comunque di cambiare in piccolo anche le abitudini di tutti i giorni, farà la differenza. Senti, appunto, citavi i genitori anti-smog, ci spieghi, ci racconti un po' il progetto e quello che fai tu all'interno di questa associazione? Sinceramente era una... io facevo parte quando abitavo a Milano, adesso io sono un po' fuori, quindi non le frequento più, però i genitori anti-smog è appunto un'associazione di genitori che volevano cambiare per i propri bambini, capendo che l'aria era irrespirabile a Milano e quindi tutti insieme cercando di andare insieme per fare, appunto, cambiare e richiedere gli interventi per migliorare l'ambiente e l'aria delle grandi città. Così nasce Genitori anti-smog. E quanto è importante, al di là dell'associazione, quanto è importante il valore che poi ti può trasmettere la famiglia, insomma, tu con le tue figlie, tu con le tue figlie, allora è importante. Sì, è ultra importante perché appunto loro fanno quello che facciamo noi, non quello che diciamo. Chi fuma e dice non fumare ai figli, proprio non arriva il messaggio. Mi ricordo una volta che portavo Stella a scuola, stavano studiando il riciclaggio, insomma, la raccolta differenziata e c'era un altro genitore che aveva appena lasciato la figlia, sale in macchina, prende la posa a scendere e lo svuota fuori dal finestrino. Io guardo questo padre che, cioè, come fa la figlia a crescere con dei valori giusti, con rispetto verso la natura quando in casa hai un genitore che fa l'opposto? Insomma, dobbiamo essere d'esempio, però dobbiamo anche credere in quello che facciamo, non deve essere una facciata. Informarsi, parlare, chiacchierare, sentire i ragazzi, sentire quello che pensano e portare i nostri messaggi. La famiglia, si sa, è un ruolo fondamentale, così come anche la scuola e tutta la società. Senti, ultime due domande. Allora, la prima, relativa al mondo nel quale sei nato professionalmente, parlo quello del fashion. Noi parliamo molto dell'inquinamento che può arrivare dalle automobili, però anche l'industria del fashion ha un impatto ambientale molto forte, è una delle industrie che inquina di più nel mondo. Però anche qui, da qualche anno, comincia ad esserci una sensibilità maggiore rispetto ai temi dell'ambiente. Ecco, che cosa sta facendo l'industria del fashion proprio in questo ambito, visto che insomma tu continui comunque a seguirla? Sì, assolutamente. L'industria della moda ha un potere incredibile. Quando si mettono insieme si sa anche quello che hanno fatto per la ricerca. Basta pensare alla ricerca sull'AIDS, no? Il risultato incredibile che la moda ha fatto. E la moda sta cambiando sia le grandi fashion house e anche la fast fashion perché sanno che non è sostenibile andare avanti come hanno sempre fatto. Ma questa credo che nasce sia da una coscienza loro che da una richiesta del consumatore. Si vede, si parla sempre di più dell'ambiente, si parla sempre di più di una moda più ecosostenibile e quindi tante aziende stanno cambiando proprio la linea di produzione per utilizzare soltanto materiali ecosostenibili entro dieci anni. Si parla del 2030. È un cambiamento importante, lungo, però sta mettendo in atto. Quindi sicuramente lo sanno che deve esserci questo cambiamento. Si stanno impegnando tutti per questo motivo. Ma poi tocca anche a noi appunto quella che abbiamo detto all'inizio, il potere di ciascuno di noi, il potere del consumatore di scegliere un prodotto piuttosto di un altro. Ma anche poi come ci comportiamo, no? Si dice che un capo dovrebbe essere indossato 30 volte per essere sostenibile. E se non riusciamo noi a indossarli magari 30 volte perché non abbiamo voglia, almeno io faccio così che regalo a amiche o amici o addirittura faccio lo suoto all'armadio e lo do in beneficenza a negozi di secondo mano o faccio delle aste, dono in beneficenza i soldi. Insomma si può fare vivere anche un secondo amore ai nostri capi che abbiamo nell'armadio. Quindi si può fare tanto da singolo come sempre ma ovviamente le cose grandissime le faranno le aziende. Ma sta avvenendo e sono fiduciosa. Senti, un'ultima domanda che è in parte legata a questa tua risposta rispetto al fatto che appunto i consumatori poi non sono solamente delle scelte aziendali ma sono proprio sì, sono sempre ovviamente delle scelte aziendali che però nascono spesso da un mercato che cambia cioè i consumatori oggi sono molto più attenti a tutto quello che è più sostenibile non solamente come impatto ambientale ma per esempio anche sull'alimentazione cerchiamo tutti uno stile di vita più sano. Ecco, tu ormai sei in Italia da qualche anno che Italia hai visto cambiare in questi anni verso una maggiore diciamo attenzione ai temi della sostenibilità? Ma ho vissuto sulla mia pelle il cambiamento della mobilità sostenibile della bicicletta che è stata una specie di rivoluzione nelle grandi città soprattutto a Milano dove ho vissuto per tanti anni che per me è totalmente cambiata le strade si stringono per le macchine e si allargano per le biciclette e questa è e ha cambiato proprio la faccia è diventata una città molto più bella molto più verde dove le persone sembrano più felici e poi si parla sempre di più dei cambiamenti climatici e quindi i cambiamenti delle abitudini vedo a volte un po' di sfiducia che mi dispiace perché in qualche maniera qua arrivano prima i ciclisti poi le infrastrutture per i ciclisti e così in ogni ambito invece dovrebbe essere il contrario che il paese lo stato il governo faccia le scelte giuste e così i cittadini possono seguire queste scelte giuste invece a volte deve proprio nascere da ciascuno di noi per fare il cambiamento e allora se deve essere così impegniamoci tutti quanti per cambiare perché si può avere io sono positiva e continuo a divulgare la bellezza che deve prevalere su tutto ecco bene mi sembra un messaggio finale azzeccato per la nostra chiacchierata grazie mille Filippa di essere stata con noi grazie a voi davvero ciao e a presto a presto